Cos'è il coronavirus? Il coronavirus è una malattia che può far venire alle persone febbre alte e tosse. Cosa succede se mi prendo il coronavirus? Molte persone che prendono il coronavirus possono stare a casa per stare meglio. Riposo, cibo sano e sonno aiuteranno. Bambini e adulti in salute sono bravi nel combattere i germi del coronavirus. Ma alcune persone come te dovranno andare in ospedale. I dottori e gli infermieri faranno il possibile per fargli stare meglio. Cosa posso fare io per aiutarlo? Puoi lavarti le mani con sapone ed acqua calda. Devi lavarti le mani prima di mangiare. Dopo aver starnutito ho soffiato il naso. E dopo aver usato il bagno. Devi tossire e starnutire nel tuo braccio in un faccioletto. E devi stare a casa all'ospedale se tu o qualcun altro della tua famiglia è ammalato. Perché la mia scuola è chiusa? Per aiutare le persone a stare meglio la tua scuola rimarrà chiusa per un po'. Dovrai rimanere a casa e fare i tuoi compiti. Mi sento un po' preoccupato e triste. Mi manca andare a scuola e vedere i miei compagni. È normale sentirsi tristi. Le cose ti sembreranno diverse per un po'. Ma i grandi sono lì per prendersi cura di noi. Il loro compito è aiutarci a sentirci al sicuro. Ci dobbiamo ricordare che possiamo parlare con loro. Di qualsiasi preoccupazione che abbiamo e loro risponderanno alle nostre domande. Grazie. 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 Grazie.